Ciao bambine, ciao ragazze, ciao assistenti, ciao a tutte, ciao genitori. Questo video l'abbiamo pensato insieme agli altri maestre proprio perché questi giorni in cui siamo a casa, siamo un po' firmi con tutte le nostre attività e abbiamo più tempo per pensare, per pensare anche alle cose che facciamo e alle persone che di solito noi frequentiamo e così uno si accorge delle cose che fa, quanto gli mancano, le persone che non può incontrare, quanto gli mancano e sicuramente nella nostra scuola di danza ci sono molti affetti, molte persone che noi incontriamo e con cui condividiamo tanto della nostra vita. Così con le altre maestre abbiamo pensato di mandare a tutte un pensiero, un saluto che davvero viene dal cuore perché a tutte, a tutte le maestre, a tutte noi le bambine mancano, voi bambine ci mancate, ci mancano le assistenti perché con loro inizia anche un percorso molto diverso, molto più importante. Così dopo tanti giorni sentivamo proprio il bisogno di farvi arrivare la nostra voce, il nostro saluto e il nostro calore. Speriamo che questo momento passi, ma sicuramente passerà e quando ci ritroviamo ci abbracceremo fortissimo e saremo ancora più felici di stare insieme e lavorare insieme. Quindi sicuramente a presto, vi saluto come quando siamo a danza. Un saluto e un bacio che vi arrivi fino al cuore a tutte, piccole, grandi, mamme, a tutti, a tutti i genitori e a tutte le loro bimbe che vengono nella nostra scuola. Adesso vedrete le maestre e il loro saluto sarà sicuramente un po' particolare a ognuna come si sentiva. Ciao bimbe, spero state tutte bene. Non vedo l'ora di tornare a fare danza con voi e di abbracciarvi forte. Un bacio. Ciao bimbe, come state? Spero tutto bene. Vi mando un grosso bacio e non vedo l'ora di rivedervi. Ciao bimbe, mi mancate tantissimo. Vi mando un bacione. Spero di rivedervi presto, mi raccomando, restate a casa. Ciao bimbe, come state? Spero tutto bene. Io sto bene, ho tanto voglia di tornare a fare la danza con voi e mi mancate moltissimo. Intanto un grande abbraccio e tanti baci. Un saluto dalla Marianna e dai suoi bambini. Ciao!